Non devi andare sulla Luna per trovare le migliori statistiche sportive. Su PlanetWin365.news trovi statistiche, dati e analisi approfondite e fornite dai migliori esperti. Scopri il futuro dello sport su PlanetWin365.news. I'm Mo Rocca and I'm excited to announce season four of my podcast Mobituaries. I've got a whole new bunch of stories to share with you about the most fascinating people and things who are no longer with us. From famous figures who died on the very same day, to the things I wish would die, like buffets, all that and much more. Listen to Mobituaries with Mo Rocca, wherever you get your podcasts. Interessi zero e rottamazione. E dopo un anno puoi tenerla o sostituirla. Anticipo 1600 euro, 11 rate da 139 euro e rata finale 12.058 euro. Tanzero TAIG 381. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 dicembre. Il capitale che Massimo Carminati mette nella cooperativa 29 giugno è il proprio brand, cioè il suo, nome e la sua faccia. E basta questo, basta il nome di Massimo Carminati, accanto a quello di Salvatore Buzzi, per agevolarlo nei lavori in emergenza, al Campidoglio, per aprirgli le porte della politica e della pubblica amministrazione. Perché? Perché la gente ha paura di Massimo Carminati. Non perché lo ha visto uccidere, perché è consapevole del potenziale criminale che questo uomo ha. E per questo fa paura. Adesso, senza nessun capo di imputazione a carico, senza pressioni giudiziarie, senza nulla che potrebbe, diciamo, fermarlo a fatti concreti, perlomeno nel breve termine, Massimo Carminati sarebbe nel pieno del suo potere. Una copertina d'inchiesta dell'Espresso, uscita due anni dopo la libertà del Carminati, lo etichetta come l'ultimo re di Roma. Dicono che Roma si è divisa in quattro zone. Le divisioni sarebbero, a quanto dicono, centro e nord, Massimo Carminati, zona Flaminio e Flaminia appoggiate all'Andrangheta, nella zona di Carminati. Da San Paolo a Ostia abbiamo Giuseppe Fasciani, Tuscolano e Anagnina, invece c'è una piccola zona in mano a Giuseppe Casamonica e tutto il clan, mentre zona est e sud-est è tutta in mano a Michele Senese, con San Basilio che si appoggia sempre all'Andrangheta. Si parla di tacito accordo tra le parti, poco casino, pochi riflettori addosso e si va quel che si deve fare relativamente nell'ombra. Michele Senese era appena uscito dal carcere, cosa di cui io sono stato felicissimo, perché era una persona con cui ho fatto quattro anni di galera per il processo alla banda della Magliana e quando è uscito, dopo otto anni di galera, l'ho incontrato, sono stato felicissimo di vederlo in buone condizioni, ci siamo salutati, abbiamo parlato del più e del meno per un'oretta, credo. Quindi prima di addentrarci dal principio, nella nuova vita di Massimo Carminati, dobbiamo un attimo fare il punto della situazione e per farlo bisogna un attimo capire alcune circostanze e alcuni personaggi soprattutto. Partiamo proprio con questo Michele Senese, questo boss della Camorra che opera a Roma, che sto pensando al processo quando lo hanno imputato per la Magliana con Carminati, sono fatti quattro anni insieme e lui diceva no ma io non c'entro niente, non so neanche cos'è questa banda della Magliana, se volete datemi qualche associazione camorristica a Napoli, tanto ne ho tante. Detto il pazzo, perché lui praticamente si faceva fare sempre delle perizie per uscire, la scampava sempre, cioè alla fine dei conti era sempre libero e sempre operativo nel suo lavoro diciamo. Stiamo parlando di un personaggio ragazzi che si mangiava le persone dentro le carceri, questo è ciò che dicono, perché uno dice vabbè magari un boss sì della Camorra che però non sta manca a Napoli, messo lì a Roma, uno dei tanti perché ne sono talmente tanti napoletani che fanno questo mestiere ad alti livelli, che uno dice chi è questo? E questo era veramente un pazzo fuori di testa, uno che veramente sa il fatto suo, uno che conosce certi valori, li applica, uno anche scaltro, perché dura nel tempo, incontro le fiamme diciamo che iniziano, poi a un certo punto si spengono, e lui invece è uno che continua, 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 non si ferma, non si pente, non rilascia dichiarazioni, è uno vecchio a scuola, insomma è uno con due coglioni enormi nell'ambiente ovviamente, cercate di capire, quando parlo di questi personaggi io entro in una prospettiva che riguarda quei personaggi, quindi lasciate stare la morale un attimo, entriamo nel viaggio per quello che è, quindi si incontrano questi due pezzi grossi che stando alle inchieste sono due dei tre boss di Roma, di quattro certo però diciamo che sono i due capoccia più grossi, anche quelli che durano da più tempo, Senese comunque insomma è uno importante, grosso, che a Roma si è fatto bello rispettare, è carminati, è carminati insomma, no? Si incontrano quando Senese esce di galera, si guardano in faccia e inizia questo colloquio, inizialmente tranquillo, pure felice di rivedersi, ma come finisce questo colloquio? Ci sono delle riprese eloquenti, i toni si alzano, Senese non è solo, ha un guardaspalle, carminati è solo, questo è un altro dettaglio, carminati gira da solo, non è che a un appuntamento del genere si è presentato con persone che potevano coprirgli le spalle, così come invece Senese ha un'altra mentalità, non che è uno che non ha le palle di andare da solo, non sto dicendo questo, sto dicendo che ci sono mentalità e mentalità, determinati personaggi hanno un modo di operare che è quello lì e quindi il guardaspalle, cioè è difficile che becchi anche un mafioso da solo, che va a fare il colloquio con un altro criminale pesante, che ci siano questioni risolte o che sia semplicemente una chiacchierata tra amici, perché comunque sono umani anche loro, il mafioso non ci va da solo, va sempre accompagnato, è una questione proprio di figura, no? Ti accompagna alla porta, mettiamola così, carminati no, carminati va da solo, carminati se ne frega un cazzo, gli amici li becca nei suoi luoghi e approfondiremo anche quali sono i suoi luoghi, si incontrano e si alzano i toni e c'è questo movimento di carminati che mentre se ne va si volta e lo indica un braccio verso terra, quasi come fosse la fondina, l'altro che lo indica quasi come fosse la pistola, c'è un gesto cinematografico, come a dire se c'avevo la pistola ma ti sparavo, o come a dire stai calmo, era un'intimidazione insomma, indiretta, è accaduto qualcosa, si sono detti qualcosa, qualcosa che evidentemente riguarda il potere, i soldi, qualcosa che ha fatto incazzare qualcuno, magari uno quando esce di galera si aspetta sempre chi lo aspetta e invece chi lo incontra dice mo che cazzo vuoi da me, ho fatto un'ipotesi, comunque questa immagine, questo incontro diciamo fa capire che qualcosa c'è perché nelle testimonianze questi proprio dice carminati io che vendo, io che compro che c'avemo Roma, cioè a fatti concreti dalle testimonianze emergono i reati ma non emerge questo controllo che è un controllo per lo più indiretto, non verbale, carminati e carminati, senese e senese, cosa vendono, cosa comprano? Questo non possiamo dirlo con certezza ma possiamo dire che se parlano qualcuno tace. La storia di carminati, i suoi contatti, il suo vissuto lo rendono l'uomo perfetto per diventare il capo di un clan diciamo che non è come tutti gli altri, è il ponte tra il regno dei morti e il regno dei vivi, tra il bandito di strada e i colletti bianchi e anche il discorso del clan, io personalmente non non sono d'accordo perché lui appunto agisce da solo, magari gli servono delle persone, ha dei personaggi fissi che lo accompagnano, certo ovviamente amici storici arriveremo a descriverli, però non è che dici il clan come dice a Napoli e le famiglie, è in altra mentalità, cioè lui è nato a Milano ma è proprio romano, non non si rivede in quegli aspetti diciamo di criminalità, di banda criminale che hanno diciamo i luoghi dove sono nate, quindi appunto la mafia in Sicilia, la camorra a Napoli, l'andrangheta in Calabria, lui è proprio l'uomo della grande città, anche il fatto che dice che vuoi comandare a Roma, è Roma che ti comanda, poi lui l'ha comandata veramente questa città, se andiamo a vedere e lo vedremo, però a fatti concreti non ha la presunzione di dire comando io, al massimo dice, no sai, io domani potrei essere a cena con Berlusconi, come è possibile? non è una questione di ceto, ma una questione di merito, ora, se Carminati è il Virgilio che guida i dannati ovunque fino a due passi dal paradiso, allora il Caronte, quello che dalla selva oscura ti apre le porte ed è legittimato ad accompagnare fino all'inferno, è Salvatore Buzzi, l'imperatore delle cooperative sociali, che dalle radici della sua carriera ha un inizio come bancario, ma la cosa non gli bastava e allora faceva truffe con un complice con cui poi smezzava, questo amico ricatta Buzzi, probabilmente perché non lo reputa capace di reagire come ha fatto lui, che invece lo ammazza con 34 coltellate, qui parliamo, era un giovane ragazzo incensurato che ha provato a fare due truffette, diceva va bene, va male, stai sotto ricatto, no, lui ammazza con 34 coltellate e non stavamo parlando appunto di un criminale, di uno che nasce come tale, che magari spacciava, faceva parte di una banda, no, niente, è uno che lavorava inizialmente con modo e fare onesto, poi ha iniziato a fare gli inciampi e la cosa l'ha portata fino in fondo, che ha ammazzato subito, al primo reato che ha commesso ci è scappato il morto, parliamo di una persona che allora ha dentro l'anima il compromesso e lo sposa appena ne ha la possibilità, in forma spietata direi. Viene arrestato e diventa il primo detenuto a laurearsi con 110 e lode, mette in scena l'antigone a Re Bibbia, quindi il teatro, si dimostra un uomo dalla grande sensibilità artistica, sociale, culturale, parliamo di un talento vero, di uno con l'inclinazione, una persona che ha primeggiato in qualunque cosa si fosse cimentato. Quando commetti un omicidio, becchi 30 anni, dopo che hai avuto tutto perché comunque il tuo peccato è stato non farti bastare quello che avevi, che era più che sufficiente per una vita normale, c'è un bancario, allora è facile cadere in depressione, farsi rimangiare dai sensi di colpa, non lui. Salvatore Buzzi sfrutta davvero l'opportunità che una detenzione può darti, ovvero diventare quello che sei e io credo a tutte e due le facce della medaglia di Buzzi, cioè quello che si sa a sistemare, quindi diventa bancario, apre le cooperative sociali, fa tanto per il prossimo, per i detenuti, perché stiamo a parla di uno che ha fatto tanto a livello legale e ha fatto tanto a livello illegale, già che ammazzi una persona, credo che non basti una vita per espiare la tua colpa. Ecco, parliamo di una persona che evidentemente non si sa tenere la tranquillità, questo è il discorso, perché altrimenti è un genio, cioè questo veramente qualunque cosa fa Buzzi ha successo. Detenuto modello, viene graziato da Scalfaro per l'impegno riversato nei suoi anni di galera e negli anni 90 è già libero, quindi terza, quarta vita, la terza vita è quella da libero negli anni 90 dopo un omicidio, quindi lui non è che si becca l'ergastolo e sta tutta la vita in galera, è ancora giovane e quando esce, bene o male, giovane resta. La sua cooperativa nasce nell'85, quindi già prima della scarcerazione, Buzzi riesce a far lavorare ben dieci detenuti, favorendone il reinserimento. Nel giro di poco, la 29 giugno, così si chiama la cooperativa sociale, diventa una delle realtà più importanti d'Italia. Addirittura nel 2010 a cena si potevano trovare personaggi della politica di spicco come Alemanno, dirigenti Lega, Luciano Casamonica, assunto come ex detenuto. Uno dice Casamonica, chissà che entra a Lazzi. No, la grandezza di Buzzi è questa. E che non è strano vederlo con personaggi di quella tipologia, proprio perché lui è ufficialmente l'anello mancante. Se Carminati lavora nell'ombra e meno lo si vede, soprattutto in compagnia, meglio è per lui, Buzzi si occupa di reintegrare nella società i pregiudicati. Ha il dovere di assumerli, ha il dovere di essere quello che ha a che fare sia con l'ultimo degli ultimi e sia il primo con i primi, il primo tra i primi. E quindi fa parte del suo lavoro essere a cena sia con Alemanno e sia con un membro di Casamonica. Un volto perfetto. Immischiarsi con lui vuol dire fare bingo. Lui e i suoi 1200 dipendenti. Lui e i suoi 60 milioni di fatturato nel 2014. Sarà anni 80 senza conoscersi poi concretamente o comunque giusto di sfuggita. Ora, cosa può fare ad esempio Massimo Carminati per lui? In teoria poco o niente. In pratica tutto. Ci sono fatture da pagare? Serve un appalto? Bisogna vincere una gara? Basta chiamare Carminati. Basta chiamare il pirata? E tutto si risolve. Nel giro di poco questa strategia vincente porta frutti alla grande proprio. La cooperativa 29 giugno arriva sempre più in alto fino ai membri della politica più grossi. I cavalli li chiama Buzzi. Ne ha a destra, a sinistra, perché chi viene eletto oggi? Magari fallisce domani. E bisogna essere sempre ovunque. E la cosa non desta neanche troppi problemi, in verità. Fondamentalmente sì, se vince una coalizione amica è meglio, ma se la situazione cambia si vince uguale. Alla domanda, e lei cosa faceva per il 50% degli utili? Carminati risponde, nulla. Praticamente non facevo nulla. Lui dice, io che ho bisogno, io ho fatto quella rapina. Bene. E che c'è in Trico Buzzi? Cogli lavori utili, semiardario. Perché vuoi essere un criminale? Stop! Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.